Come mai lei si è opposta al fascismo e al nazismo? È stata una scelta di cultura, perché sono entrata in contatto con persone che conoscevano anche le altre forme di cultura che non fosse il fascismo. Il fascismo era totalitario quello che si dice. Il libero pensiero è una cosa che si conquista, cioè che si deve sapere che c'è la possibilità di scelta, di scelta del tuo pensiero, di scegliere con chi stare e prepararti a quella che è una democrazia. Lei è stata poi incarcerata prima a Roma e poi in Germania. Come ha vissuto l'esperienza del carcere duro in Germania? L'esperienza del carcere duro in Germania l'ho vissuta già perché avevo fatto Regina Scelli prima intanto. Essere in prigione vuol dire in genere mangiare poco, non avere altre possibilità di stare che con la tua compagna di cella e basta. La libertà è fatta di tante cose, è fatta anche soltanto di poter avere una chiave in tasca. Oggi perché è importante per i giovani, per gli studenti, ascoltare quel periodo storico e la vostra testimonianza? È importante perché non studiano più la storia. Invece di dare a loro le armi che sono servite già ai nonni, ai genitori, ai nonni e così via, alla specie per arricchirsi e per arricchirsi non per i soldi ma mentalmente uscire dalle caverne.